benvenuti allo stadio Volpe di Salerno amici della Salernitana femminile oggi sesta giornata di Serie C femminile si sfidano la Salernitana e il Monte Spaccato e palla che viene già rimessa in gioco con la numero ventuno che ha l'opportunità di servire in modo magistrale la numero trenta ed arriva l'1 a 0 da parte del Monte Spaccato un'invenzione magistrale da parte di Coluccini che serve Caravello che sorprende De Lucia alle sue spalle ed arriva quindi il vantaggio per il Monte Spaccato quando siamo al sedicesimo minuto di gioco e quindi è Cuomo che si prepara alla battuta il signor Daniello al fischietto in bocca e fischia la numero nove prova dalla distanza Cuomo e la palla arriva sui piedi di Cozzolino che sigla il pareggio l'avevamo detto in precedenza era fondamentale avere più giocatori possibili in aria e quindi la Salernitana trova il pareggio alla prima vera opportunità di questa gara con Cozzolino ma il signor Daniello lascia proseguire Cuomo può andare in pressing e infatti disturba la compagine ospite ed è colonnese in questo caso a provare nuovamente la conclusione dalla distanza quindi la sfera torna ai piedi del Monte Spaccato recupera palla colonnese e viene fermata questo era chiaramente fallo Tulimieri dalla distanza ci prova ed è formidabile la risposta da parte del portiere ed è adesso traversa da parte di Cuciniello Tulimieri può servire senza successo Cuciniello ma riprende il pallone la numero 20 si allarga troppo la sfera e quindi è nuovamente Apicella che suona la carica può servire colonnese sulla fascia infatti lo fa la numero 11 il pallone sul piede adesso scarta un avversario tira verso la porta e trova una fantastica rete ha fatto un gol micidiale la numero 11 colonnese che è servita da Apicella prima scarta una giocatrice ed adesso abbiamo proprio sotto i nostri occhi l'esultanza delle ragazze di Terisi è stata letteralmente fantastica colonnese nella realizzazione di questa rete adesso può battere prova la conclusione ed è fondamentale l'intervento di Pascale che non si è lasciata ingannare dal possibile intervento da parte di Ribellino adesso la palla è lanciata in profondità Tulimieri ha la possibilità di andare in contrasto con la numero 3 del Monte Spaccato lotta per recuperare il pallone che infatti arriva sui piedi di Cuomo che dalla distanza spara verso la porta e trova una fantastica rete ed è 3 a 1 la salernitana allunga il vantaggio con una conclusione letteralmente incredibile di Cuomo che prepara la cartuccia mira e spara 3 a 1 al Volpe la palla è crossata in mezzo arriva il colpo di Tessa da parte della numero 6 Coppia che sfiora il palo siamo già in posizione offensiva Cuciniello va a contrasto con Capiero la numero 20 può servire Cuomo che ritenta la conclusione ci ha solo pensato dalla distanza adesso può farlo e non trova la doppietta per una questione di millimetri Consolino serve Sabatino e quindi adesso la salernitana può avanzare Cuomo a sui piedi il pallone può preparare anche la conclusione che arriva in questo momento ed è perfetta la risposta da parte di Barretta sta ancora amministrando il pallone adesso si arriva il triplice fischio la salernitana vince ritorna alla vittoria 3 a 1 al campo Volpe contro il Monte Spaccato e finalmente la salernitana può ritornare alla vittoria quando intanto sul terreno di gioco entrano anche il presidente Domenico Pizzicarra accompagnato dall'amministratore delegato della salernitana Maurizio Milan Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti